Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal Se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video E' passato veramente tantissimo tempo dall'ultimo episodio Ne sono consapevole ma sostanzialmente non è colpa mia sono successi un po' di casini se vi interessano E appunto non li sapete andate a vedere l'ultimo video che è uscito sul mio canale Li spiego pressoché tutto insomma le cose importanti Ma tranquilli è vero che l'Eternal manca tantissimo Ma sono andato un pochettino avanti Esteticamente parlando dovrebbe essere tutto come prima non è cambiato nulla Soprattutto con questa cosa qui che l'ho lasciato qui in mezzo non mi sono nemmeno un minimo informato su come elevarlo Ma ragazzotti sono andato un pochettino a esplorare perché sono stato troppo tempo a cercare delle robe Che effettivamente tra video e live alla fine non avevo mai trovato ma sapevo della loro esistenza in quei punti Di cosa sto parlando ecco una delle cose il resto poi le vedremo magari in futuro che poco a poco ve le mostro È questa qua Allora io non so minimamente cosa sia non mi sono nemmeno informato e questa è la realtà dei fatti Però che io sappia mi sono detto da voi ma non solo da voi ma anche da gente un pochettino più lezza e affidabile Che dovrebbe sbloccare il potere della mia spada Ora nella descrizione c'è scritto che sblocca il vero potenziale della Shadow Blade Ma la mia non è la Shadow Blade si chiama Dream Eater Andando a vedere il vero nome della mia spada perché è stata rinominata Dream Eater non da me Si chiama Void Sword quindi cosa c'entra con la Shadow Blade non ne ho la minima idea Però andando a scrivere Shadow Blade guarda un pochettino non esce assolutamente nulla Se non questo vestito mantello chiamiamolo così e questa roba qui che è una spell Beh non ci interessa L'ho indossato una volta ma non l'ho provato effettivamente con la spada Ho soltanto visto che effettivamente è andato un più 8% di damage Ora non so precisamente in che slot vada Ah no solo qua ok E andrebbe al posto delle vitamine che mi rendono immune da weakness e mining fatigue Che potenzialmente è buono ma nulla ad eccezionale Come oggetto questo qua a parte questo ci dà l'1% di speed in più Che a me non interessa assolutamente nulla Quindi soltanto indossandolo effettivamente fare l'8% in più di danno Ragazzi già questo è buono Ma dico già che ci siamo approfittiamone facciamo puntatina esplorativa E andiamo sulla luna a fare un po' di casino ecco Ah sì una cosa che non ho assolutamente sistemato Sono le mie astornavi Le ho lasciate qui a marcire La luna però l'ha esplorata veramente tanto Soprattutto seguendo Mi sono perso con i tasti aiuto Ok soprattutto stavo dicendo Mi sembra verso est Che è da questa parte qui Che l'avevo già esplorato anche un pochettino in live negli scorsi video Ma veramente sono andato molto molto in quella direzione E nulla oggi giusto così tanto per potremmo andare a ovest Ha senso Spero di trovare anche dei nemici Giusto per vedere ragazzi se riesco veramente a fare più danno Oppure no perché io veramente Cioè non è che non l'ho capito Non l'ho provato proprio Non l'ho provato È totalmente una cosa differente Tra l'altro qui è pieno di portali E se lo sbaglio c'è pure una missione con il limbo E purtroppo penso che il limbo sia veramente quello di quella dimensione Ma veramente è una cosa fastidiosa Spero di non farlo mai Tutti questi dungeon qui un po' inutili Ovviamente li schippo direttamente Non ci servono Ma io sono venuto in questa dimensione per avere qualche nemico con vita infinita E giustamente loro non ci sono Poi come minimo trovo un dungeon interessante E spawnano tutti Eccala appunto Vabbè speriamo non spawnino Detto questo questo qua è dell'Eterial Wizard E non so se già ce l'avevo Ma nel dubbio salviamocelo Anzi mi sembra proprio di sì Che era quello dove ero crepato la prima volta Ma andando per sbaglio la mia armatura lì Lasciamo stare vabbè Infatti qua avevo salvato tanto il God King Va bene Quindi Wizard disabilitato e salvato Mi metto l'armatura buona Perché non si sa mai ragazzi cosa ci possa essere il dentro E direi di entrare Allora la cosa più senza da fare è mettere l'Extended Venimani Perché anche qua dietro ci stavano altre ceste con delle cose interessanti E magari trovo anche qualcosa di buono Ok a occhio decisamente nulla di particolarmente interessante Beh questi blocchettini qui si prendono sempre Questo non l'ho mai visto E poi si arriva in cima dove non c'è assolutamente nulla Se non il boss da far spawnare Che purtroppo mi mancano i totemi I totemi ecco sono ancora a un totemi su tre Quello purtroppo sì Dai magari ci va bene e li trovo oggi Non penso però non si sa mai Tutto può capitare Mi sembra che sta cambiando tutto quanto colore Quindi forse sta avvenendo la notte lunare E spawneranno i mob tra poco Appunto eccolo qua Eh proprio spuntano da terra Vediamo un attimo il danno Allora Beh è un po' difficile da capire Ma mi sembra Ah io no Mannaggia sti cosettini che danno fastidio Veramente Comunque il danno è all'incirca di mille A occhio Quando parte il colpo buono Tipo a questo gli ho levato 300 Ora mi è arrivato una botta da non so chi E questa mi ha fatto un bel po' male Ma no raga La notte veramente ci sono troppi troppi mob E fanno anche malissimo cavolo Mi servirebbe un posto più tranquillo Se solo lo caricasse Aglio Questo faceva male Comunque direi di riprovarci Ah questo qui gli ho fatto Madonna 2005 No per forza aveva già un po' di vita in meno Oh ma quanto sono veloci questi Vediamo Ora gli ho tirato un altro colpo E gli ho levato tipo 5 C'è cosa che non torna Comunque ok Ma non male l'ho killato Ora provo un attimo A mettermi effettivamente questo qua E già così dovrei fare l'8% Di danno in più Ragazzi è veramente buono L'8% così a caso Soprattutto se faccio già tutto questo danno Perché effettivamente non faccio poco danno Poi magari l'8% me lo conta anche con Vorpal Quindi già il Vorpal che faceva un botto Se aggiungo l'8% E pazia pura E quindi sono già finiti i nemici Hanno paura? Cioè raga è notte È palesemente notte Oh l'ho chiamati Allora 65.000 di vita E effettivamente in questo colpo Gli ho levato pochissimo Come appunto mi poteva aspettare Riproviamo sul formicone Che si conta bene No effettivamente ragazzi Levo sempre lo stesso Cioè ora sicuramente c'è l'8% in più Non lo metto in dubbio Però comunque bene o male il danno è sempre quello Il fatto è che mannaggia loro Ci sono alcuni che spawnano veramente Con 60.000 di vita E quelli lì sono Baggatissimi proprio Allora in poche parole Questa roba qui Questo mantello Sblocca il vero potenziale dell'arma Sarà vero? Sarà falso? Non ne ho la minima idea Sta di fatto che l'8% Come ho già detto È veramente un'ottima cosa Sarebbe bello magari avere questi potenziamenti Su tutti i pezzettini Cos'è che abbiamo qua? È qua il 4% di attack di magic Che anche qua non è male Quale un percento di speed Sarebbe anche da rifare Che poi in verità Nemmeno lo vuoi Cioè questo qui ragazzi È un mantello Che è da buttare Magari posso metterci qualcosa Che effettivamente Mi dia un bonus del danno Magari facciamo un altro 8% di qua Un altro di qua Ragazzi possiamo fare delle cose Veramente veramente fighe Con questi bonus qui Che vengono dal nulla Però prima andiamo a casa Perché qua mi arrivano Continuamente botte a destra A sinistra E non capisco più niente Ah perfetto Stava diventando Veramente difficile la vita lì E qua il sole sta salendo Ok Ottimo Ora da questa parte Ho tantissimi oggetti Dell'Asian Spellcraft Che possibilmente Mi aumentano le spell Di danno A me nemmeno interessano Ma il bonus Potenzialmente sì Allora intanto Di mantello L'invisibilità Ne ho già due Quindi io magari mettendoli Già prendo un bonus migliore Benissimo Messi tutti e due È cambiato l'MB tag Ma signori Non è apparso Nessun bonus Ma è normale sta cosa? A quanto pare sì Perché Veramente Non c'è nulla Ma proviamo Delle collanine Se lì ci vanno Oppure no Perché effettivamente Non so cosa ci possa andare No lì ci vanno soltanto Le magliette Dice Cioè quindi Suppongo Vestiti Comunque qua Abbiamo le collanine Che io già ho E guardiamo un pochettino Cosa esce qua Ok 4% Di attack damage 4% di attack speed E questo qui mi dava Uno di armor Allora uno di armor Potrei anche evitarlo Però cavolo Gli altri due Non sono male Quindi ne ho trovato Un'altra Mettiamo anche questa E mi dà 4% speed Allora Io l'attack speed Ce l'ho già altissima Un 4% di attack damage In più Non sarebbe affatto male Che poi Anche questo è vero Anche l'anerino del volo Al 6% di attack damage Questo all'8 Uh ma già ce l'avevo Queste cose OP Quindi manca Su tanto un indossabile Che vada qui Ma io non so Minimamente Cosa ci possa andare Cioè sicuramente È una cosa Possibilmente magari estetica Però non saprei Allora facendo così Mi escono tutti quanti Oggetti compatibili Ora non rimane Che vedere Cosa ci possa andare Tipo questo qui Penso ci possa andare Ma non è craftabile Ok Questi ci vanno Quasi sicuramente Sono molto molto carini E oltretutto Nemmeno difficili da craftare Se non fosse per il fatto Che mi manca la lana Mi manca tutto Ragazzi Incredibile No beh A parte gli scherzi Il Gaia Spirit Non so minimamente Cosa sia Quello non ce l'ho Ma guardate un pochettino Questo qua Garantisce immunità A tutti gli effetti negativi E si va appunto Che con le pilloline Che abbiamo noi Le vitamine Ragazzi Questo è ultra ultra buono Da fare Eh sicuramente va fatto Assolutamente sì Ma anche le ali Potrebbero andare bene Forse vanno in quello slot Lì almeno spero Perché a parte quello Non mi è rimasto nient'altro Da provare Però le ali effettivamente Interagiscano col mio volo Non andrebbero bene Non andrebbero bene No l'unica cosa Che forse potrebbe andarci bene È questa veste qui E ci rende invisibili Nell'oscurità Quindi forse i nemici Non ci attaccano di notte Potrebbe essere carina Come cosa Non è difficilissimo Il crafting Vuole semplicemente Della lana nera Un po' di iron E questi crimson cloth Che effettivamente Potrebbero sembrare difficili Ma alla fine Non sono altro che Lana rossa Nera Con questi nebulus earth Che noi dovremmo avere Perché sono droppati Dagli enderman E penso di averne buttati Tantissimi Forse però se va bene Non li ho buttati tutti E quindi potremmo farlo Infatti se ho provato a farlo Prima però Mi manca la lana nera Cioè Tra tutte le cose Proprio quella mi manca Va bene Ma sta facendo notte Andiamo a dormire Poi mi procuro la lana E proviamo a farlo Perché se è craftabile Effettivamente non è così difficile Magari Riusciamo pure a maxarlo Con un altro più 8% O addirittura di più Chi lo sa Sul danno Allora La lana Ce l'ho Quindi si comincia bene Di colorante No vabbè Ne coloro un pochettino Poi perché l'ho presa È vero se me la prendi In automatico da lì Non ne ho la minima idea Ok E la rossa che mi manca Signori Ne ho soltanto un pezzo Ma si fa col colorante rosso Che Anche di questo Un pochettino ne ho Se Prendo quest'altro Dall'inventario Forse è meglio Ah Perfetto Mamma mia raga Non vite Gli ho finiti Non ne avevo Non ne avevo Seriamente Erano precisi precisi Ma nemmeno Qua da qualche parte Mamma mia Che casino che c'è qui Ehm no Dovrei forse forse Rattivare la farm Di Enderman Tutte quelle cose lì Le ho sempre buttate Ma vi giuro Ma l'avete vista anche voi Ce ne avrò avute Chissà quante A centinaia Di milioni proprio Comunque Eccolo qua Craftato Allora Prima cosa Ci va O non ci va In quello slot Sì Quindi già Ottima cosa Perfetto E poi Vabbè ok Mi è andata male Un più uno di armor Quindi non ci faccio nulla Il più uno di armor L'avevo levato Da quello che stava appunto In questo punto qui Della Spiked Bezo Arrstone Non so nemmeno come dirlo E E qua cos'è Che avevo Una schifezza Avevo un Quello dell'invisibilità Cosa mi dava Lo speed All'1% Vabbè quindi Insomma un upgrade Tutto sommato L'ho fatto lo stesso Sì Vorrei Craftarne tanti Fino a quando non trovo Quello che mi interessa E sicuramente Non andrò a fare Perché ragazzi Voglio sempre Diventare più potente Soprattutto risolvere il bug Nel mondo della luna Perché è veramente un disastro Se no Comunque detto questo Spero che questo video Lizzissimo vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti